ciao a tutti siamo a parma manca un pochi minuti all'apertura prima che arrivi gente vi faccio vedere per chi non fosse ancora avuto allo stand quali mezzi sono esposti velocemente poi farò dei video su ogni mezzo questo è il camster che già conoscete la versione omologata cinque posti di viaggio autocaravan mentre abbiamo anche il vanster nella versione space tourer quindi la più rifinita con 5 8 posti di viaggio e nella versione autolettura abbiamo il summit prime 600 che sta piacendo veramente tanto fatto estetico molto forte sta colpendo a prima vista è una buona posizione per vederlo però arriverà anche in autunno nella nostra sede qui abbiamo il 30 che è il modello anniversario per i 30 anni di puzzle che si basa sul road cruiser b ovvero il 636 colletti gemelli quel bagno tradizionale tipo il 2000 plus tipo i mobili sono dedicati con tutte le illuminazioni in diretta finitura in alluminio rivestimenti in tessuto sulle pareti le finestre rotonde si può avere con 300 euro in più anche la versione s7 quindi un piccolissimo supplemento frigo che si apre sia da destra che da sinistra e senza cappelliera ma senza sky view che è un compromesso tra spazio senza avere il calore aggiuntivo di uno sky view però ovviamente rinunciando la luminosità aggiuntiva e rispetto alle road cruiser parte l'estetica cambia appunto tutto il blocco cucina quindi abbiamo tutto il piano su un livello solo col frigo in testa però riduce un i cassetti tre cassetti più questo i bagni invece lo conoscete già poi continuiamo abbiamo il 640 di cappa che l'anno scorso non c'era in fiera e molti ce l'avevate chiesto quest'anno abbiamo portato sapete che il 640 di cappa è un modello unico sul mercato con la possibilità di avere il bagno della zona notte totalmente separate dalla zona giorno a differenza di qualunque altro camper che hanno cucina e bagno che si intersecano letto da 1 e 57 e la doccia separata poi summit 640 tranquillo questa è in versione quercia che si si vede raramente ma vale la pena da perché è una bellissima alternativa con le colorazioni il solito super bagno apprezzatissimo attenzione che è una cosa che non avevo capito nemmeno io alla presentazione perché non era presente il lavandino è stato cambiato solo sui modelli prime invece sul modello classico sia sul 600 che sul 640 rimane il lavandino dell'anno scorso e più tradizionale senza la nuova vaschetta in camscape b qui abbiamo anche una versione globica per vedere l'alternativa di colorazione con i legni più scuri sempre quindi la base sulla quale poi è nato il 30 quindi cambia la cucina rispetto al 30 quindi non avendo il frigo in testa abbiamo un corridoio più largo i cassetti molto più grandi i classici trovate anche su twin e compagnia il frigo in quest'altra posizione letto e bagno sono gli stessi summit 600 plus nella versione normale su grigio ferro cerchi da 16 quindi questa è sempre una macchina molto aggressiva anche su sito in 140 è un 42 mila 300 euro che si può avere anche su fiat con mille euro in più questo è una versione summit classica mantiene la cucina tradizionale del summit che conoscete già dall'anno scorso con il frigo con il frigo non in testa ma qua laterale e come vi dicevo nella versione classica anche il lavandino rimane quello dell'anno scorso un bel twin plus con vetri s7 e mobilio elegans e tetto sollevabile che quest'anno come non mai sta andando fortissimo ora si è sempre la macchina più venduta d'europa il motivo ci sarà purtroppo non c'è la versione r però sul bagno il bagno r lo possiamo vedere sul road cruiser revolution esposto che vediamo dopo nuovo tavolo immancabile 2 mil vario che resta sempre il quattro posti il van quattro posti di riferimento del mercato invariato che già perfetti direi cucina e tavoli in corian giganteschi qui presentato con frigo doppio la sua mega classica armagliatura bagno centralizzato che ci permette di dividere la zona giorno e la zona notte ma l'unico della gamma del bagno r che ci permette di utilizzare anche solo il bagno lateralmente per via del letto un pochino più stretto rispetto al diomini r il revolution senza arrivare gente 6.36 tetto h3 quindi sempre il road cruiser classico ma con il tetto più alto letto elettrico e possibilità di secondo letto inferiore per avere un doppio letto senza rinunciare al bagagliaio e anzi averlo più grande ancora arrivi ciao road camper con tetto sollevabile con il nuovo tavolo con la nuova prolunga giro molto più grande di prima vediamo se riesco più la nuova nettamente migliorata come tavolo il 540 quella di net più grande in assoluto anche se non è il 540 con il frigo più grande in assoluto ma non è quella doccia più grande di tutte road car 540 in fiera lo trovate a 38.500 euro su strada con il 120 cavalli e tutti i pacchetti chassis e base completamente rinnovato il road car di quest'anno non ha nulla a che vedere con il road car dell'anno scorso ho diverto il bagno con il lavandino fisso con la finestra in bagno che prima non c'era e abbiamo anche il summit 540 niente figurati che anche lui è un prezzo molto accattivante il frigo in testa ha doppia partura destra e sinistra il letto che è più largo di quello del road camp e il bagno con la parte attrezzata girevole e doccia separata l'unico 540 che potete trovare con la doccia separata sul mercato oddio lo è anche il road camp R però è comunque un bagno laterale e in ultimo la novità del road car che è il doppio letto matrimoniale sovrapposto pianta abbastanza ormai già conosciuta però che mancava sulla gama road car senza colonna armadio quindi bello spazioso ecco un bel bagno disponibile anche con truma diesel per compensare il fatto che le bombe le sono da 5 kg vi aspettiamo ciao ciao